Tornano gli incubi americani, quelli delle pallottole che volano durante le campagne elettorali per colpire presidenti, ex presidenti e candidati alla Casa Bianca. Questa volta è toccato a Donald Trump, colpito a un orecchio, ma poteva andare peggio. Era in Pennsylvania, Butler, vicino a Pittsburgh. Aveva appena iniziato un comizio quando si sono sentiti tre colpi di fucile da lontano, ma non troppo lontano, sparati da qualcuno che non doveva essere lì. Era stato visto qualcuno in tenuta mimetica che saliva su un tetto e riusciva a sparare all'ex presidente che vuole rivincere la Casa Bianca. Subito gli uomini del Secret Service si sono gettati su Trump, che comunque appena era stato colpito, si era buttato a terra. Poi si è visto Trump sanguinante all'orecchio, trasportato, portato, ma in piedi, mentre con il pugno alzato diceva forza combattete, combattete, fight, fight alla sua gente. Si è visto Trump trascinato appunto in una macchina e portato via. L'ex presidente sta bene e lunedì sarà, hanno detto gli organizzatori, puntualmente a Milwaukee, in Wisconsin, per la convention, che però non sarà più una convention normale, ma assomiglierà sempre più a quelle che si sono viste in passato, come nel 68, quando c'erano state le stesse sparatorie, che avevano ucciso Martin Luther King e poi Robert Kennedy. Certo, persone diverse da Trump, ma dove l'obiettivo era lo stesso, non fare arrivare alla Casa Bianca, un candidato che riceve molto consenso. In questo momento negli Stati Uniti si sta guardando indietro e si capisce che la storia si ripete. L'FBI ha già preso le indagini, come aveva già fatto per altri episodi, l'omicidio Kennedy, ma anche quando avevano sparato a Reagan. Nel caso di Reagan era stato un pazzo, era un pazzo isolato. Adesso attendiamo chi sia quest'uomo che ha sparato a Trump. Trump ha mandato subito dall'ospedale un messaggio, l'ha lasciato ai suoi social, dove ha spiegato come è successo, come ha sentito la pallottola fischiare, dove lui si è, forse perché si è voltato in quel momento per indicare, indicava un grafico dove parlava dell'immigrazione, un punto della sua campagna elettorale molto caro a lui, forse in quel momento quando si è girato si è salvato la vita. Adesso l'America attende una risposta. Chi era quest'uomo che ha sparato dal tetto e perché è riuscito a salire su quel tetto? Come mai? Come mai nessuno aveva fatto niente? Anche quando alcune persone l'avevano visto salire e l'avevano indicato alla polizia, ma nessuno si è mosso in tempo. Quando però ha sparato, subito dopo, i tiratori scelti del servizio segreto hanno sparato e lo hanno ucciso. L'America attende risposte. Noi sappiamo soltanto che da lunedì, da Miluocchi vi racconteremo quello che sta accadendo. Sappiamo che la storia si ripete che l'America è tornata nell'incubo.